Dobbiamo travestirci, fare il cappellino, metterci la cravatta, fare tutto, fare finta di essere degli intellettuali organici come si deve, e sotto questi vestiti, sotto questi involucri, sotto queste pratiche, sabotare, mettere le pietre nell'ingranaggio, fare saltare le ruote dentate, fare saltare i software, fare sbaccare questo maledetto sistema, perché se non si riesce a fare questa cosa in qualche momento significativo e deve essere collegato con i movimenti, devono essere i movimenti che lo fanno, poi praticamente lo faranno dei gruppi, dei collettivi, delle persone che lo sanno fare, questo è ovvio, ma la firma politica deve essere quella del movimento, deve essere quella degli oppressi, deve essere quella di quelli che non hanno il lavoro, deve essere quella dei precari, questa deve essere.